ciao a tutti ragazzi sono form killer dark phoenix e nico bella nico bella o addirittura nico bella aspettate che alzo un po' mio dio si è colpesso anche un uomo attenzione ragazzi idrilella si connetta il costato attenzione di chi? 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 Ale stavo con video e poi anche salutavo bella 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 bello si svegliato adesso è una diciamo fantasia storica molto fotosensibile come sentite dall'aria urlula di escrementi gli esperimenti di misteri e allora formato vuoi introdurre il video semplicemente dire 4 4 5 6 7 8 9 10 parole allora il video praticamente un video che ho trovato a random praticamente tra tutti i video che ho nel mio apparato computerizzato che è un video che abbiamo fatto quando dark phoenix aveva appena comprato aveva appena acquistato aveva appena diciamo non lo so non trovo sinonimi black ops 1 che abbiamo fatto questa partita perchè non lo so perchè non l'abbiamo più caricata perchè non ci andava di caricarla perchè non abbiamo avuto una voglia ma comunque lascio la parola a voi che siete più eloquaci si si allora siccome voi siete sempre i miliardi di iscritti ragazzi è difficile comunque rispondere a tutti voi è una cosa complicatissima non so neanche come fare infatti stiamo facendo questo video un po' per sponsorizzare gustalfa che è the best of the game or the world of the land il bar e quindi basta a raricare e mettete mi piace veramente mi piace sopra costata per un studio un altro iscritti e quindi diremo una grande diciamo un po' per esempio il mio cilassi il 200 euro e da una grande possibilità a noi per me per me ma che cazzo ci sa che a casa ma che cazzo e quindi ragazzi un attimo un attimo che sto iniziando un attimo e sceglie subito da lei oh for me for me per me la vuoi fare sul video eh? sul video devi mettere in prima pagina su youtube si pago 50 euro per metterlo in prima pagina si paga paga cosa a a Bill Gates a dice agli ebreo a dice agli ebreo a dice agli ebreo e vabbè per chi non sapesse chi è dice ebreo è il più grande tamarro ebreo ti sa se Hitler ascoltava quella musica vabbè a voglia a voglia c'è proprio uno eeeh cosa possiamo parlare in questo video molto sensato innanzitutto dell'italiano della scuola perchè cosa possiamo parlare in questo video innanzitutto eh ragazzi si allora ma io ero e dopo tutti gli iscritti e andrò e dopo tutti gli iscritti si non fatti chi cazzo chi può fregare chi può fregare chi può fregare il massimo del dialetto mischiato a al putridum italiano vabbè come dice ci sta ragazzi scrivere l'italiano forza mi raccomando tranquilla ma io vada in Italia vuoi scuola eh e allora eh ragazzi siamo tempiti eh eh lasciamo anche qualche parola a gustavo che lo sento un po' lo sento un po' timido lo so che di fronte a tutti questi iscritti ecco fa un certo effetto però che è dai immagino dici qualcosa dici modi un aggiornamento del tuo canale cioè ciao a tutti eeeh vabbè insomma a sei in tanti quindi 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 boh nel mio canale ecco cioè ci sono meno iscritti quindi non so provato a parlare alle grandi platee eeeh niente sicuramente eeeh ho pubblicato il video vabbè sull'xbox quindi giiamo su tutte e due le piattaforme eeeh eeeh oh no questo video caricate no 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 ma non c'è nessuno lo stesso quando il caricato il caricato il caricato il caricato visto che il caricato il caricato su marte tutto ciò su marte su marte almeno anche gli alieni ma ragazzi eeeh 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 perchè va dai su porno la pagina di un sito oh guarda c'è questa foto nonostante 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 questo canale secondo me merita un sacco di iscritti perchè veramente cioè da quelli che c'erano tutti nonostante 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 ancora più iscritti vederità ancora più iscritti eeeh perchè i video che tutto sommato sono di qualità buona sono in hd eeeh i commentari sono ancora migliori della qualità eeeh i video quelli lì con la GoPro secondo me sono fantastici sia la colonna sonora che che gli scappueta eeeh eeeh e poi la grattugiata deeeh la marmita strobe cucine lancio delle monetine eeeh 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 pensiamo anche a color che poverini non non hanno tutto questo ben di dio eeeh eeeh diamo un aiuto a quelli che evadono eeeh 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 vorrei fare un annuncio ragazzi eeeh 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 basta dire mi hanno ghiata eeeh asimark al in arlo eeeh eeeh adesso infatti io voglio contattare con berri che mi piace amistere il tutto il piano infatti avvistamento alieno per fare e dai di modi delle preposizioni articolate vai ma sì però invece c'è il cibi di terra non ha spettacolare a tutto il popolo per la biancazza tranne su minecraft che potrebbe anche succedere infatti però ragazzi sentite come parliamo molto localmente abbastanza velocemente senza intoppi perchè questo ormai cioè è un canale aperto a tutti al mondo intero a quelli che muoiono di fame a tutti i bambini dell'africa questo è esclusivamente per gli si fatti ragazzi con la partner riusciamo a supportare si, l'intero stato dell'appice robe assurde ragazzi grazie davvero vabbè dai il video è finito vi saluto ci metto una foto del papa si vedi c'è una foto del papa e continuiamo a parlare un'altra reta dai ah parlando del papa non so se avete visto a chi cazzo sei la fe del papa c'è tutto il video c'è tutto il video vabbè dai c'è tutto 10 parole siiii dieci parole siiii dieci parole allora io ti chiedo personalmente vabbè 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 devo chiudo il video perché se no dopo mi ci mette 60 miliardi di anni a caricarsi a un video di youtube ragazzi ragazzissimi porti dei tempi spari quanti fanno aspetteranno si si aspetta è una voglia c'è un video di genere penso che non so c'è almeno su giove almeno su giove ci avremo qualche iscritto ma non so se basta vabbè 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 guarda che se superfart d'ora e non ci avevo l'autorizzazione youtube non c'è l'autorizzazione youtube non gliela fare ah oh dai che manca poco vabbè dai vabbè cioè non c'è un'ottorizzazione youtube con 30 miliardi di scritti vabbè scusa vabbè mi consente eh no dai no dai seriamente manca 3 minuti vabbè dai concludiamo il video diamo un po' i saluti ora ringraziamo davvero tanto il grandissimo immenso proprio il gatto e quindi vabbè tommy inizia tu a salutare perché ciao a tutti da formkiller che diciamo un tizio di youtube insieme a indico bella dai indico bella ragazza dai ciao ciao a tutti ragazzi questo qui è il nuovo macchina italiano youtube channel non basta di cusci vabbè beh tu ragazzi bella bella ooooh ooooh oo ooooh 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 Grazie per la visione!